... rossa allora riprende dai dritto che si scordi sto giù vero amo di fare adesso provarla no però lì un po scomodo perché mi manda giù un po il casco c'è anche la meta più dietro ah va bene va bene si perfetto bisogna anche rinforzare a girare sentite mi girare dico destra e sinistra se vuoi riprendere va in giro 360 gradi la webcam a 360 gradi aveva la testa allora mi tocca fare filmati i corti se no a metri su ci vale un sacco di tempo adesso non tocca la tua computer infatti mio figlio dice eh ci vuole più no che ci son ci sono qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.